Il programma elettorale della lista numero 1, Noi ci saremo insieme per cambiare, a sostegno del candidato sindaco Ignazio Vincenzo Cannas, attuale capogruppo di minoranza in consiglio comunale, si articola in 12 punti. Territorio, turismo e cultura, ambiente, vivibilità e sicurezza, famiglia, servizi sanitari anziani e disabili, urbanistica, sport e tempo libero, consulta dei giovani, scuola, edilizia scolastica, protezione civile, riorganizzazione dei servizi e delle imposte comunali e sviluppo delle attività commerciali e industriali. Dall'incontro con il pubblico, oltre alla soddisfazione dell'attuale minoranza per il sostegno dato, alla riapertura dell'ufficio postale per il prezioso punto prelievi e il rammarico della chiusura di esercizi, come il supermercato e dei bambini che vanno a scuola altrove, è emerso un decadimento del paese, soprattutto nel capoluogo, dall'arredo urbano alle strade. Si propone di acquistare la piazzetta ex distributore per la valorizzazione del centro storico e quelli frazionali creando punti di socializzazione. C'è l'esigenza di completare il campo sportivo sintetico in un'area a visione polivalente di un campo da bocce e nella frazione di Fosio un campetto da gioco. Decreare un ufficio speciale di relazioni con il pubblico e un luogo per le feste nel capoluogo. Valorizzare e sostenere le associazioni di volontariato come l'Avis, sostegno agli anziani da convenzionare per soggiorno in località marine. Avere un punto CAF convenzionato con l'associazione mutilati invalidi del lavoro. Potenziare la videosorveglianza in stazione nei punti bui con camere intelligenti OCR. Chiudere la centrale a cippato per le polveri sottili e il fumo che entra dalle finestre. La mentele anche per le numerose strade comunali chiuse in modo illecito come quella di Castel Corniglio e per le troppe riserve di caccia private a danno dei liberi cacciatori. Avere una frequente pulizia dei cassonetti della raccolta rifiuti e un potenziamento della raccolta differenziata. Togliere gli inutili parcheggi di sosta permanente negli orari notturni. Creare le colonnine di ricarica per le auto elettriche anche nelle frazioni in vista futuro. E le comunità energetiche pubbliche e private per la riduzione delle bollette. Completano la lista numero 1 Ernesto Pesci, Pier Sergio Serventi e Loredana Villani. Cesare Groppi, TG Parmense